Ciao, sono Sofia di Scarta e insieme a Nadia, la mia socia, prendiamo la trebbia di scarto del birificio Altavia e lo trasformiamo in un materiale nuovo e simile alla carta, come questo. Insieme al Museo della Carta di Mele produciamo un prodotto artigianale con una texture molto particolare che ricorda per l'appunto la fibra della trebbia del birificio Altavia per valorizzare uno scarto che altrimenti sarebbe diventato rifiuto. Quindi la trebbia del birificio che per loro è scarto per noi diventa una grande risorsa. Questo materiale vuole essere in sostituzione alla carta, vuole essere organico, per cui verrà gettato nell'organico per diventare suolo ed energia. E con questo vengono prodotti ogni tipo di prodotto, ogni tipo di prodotto fatto con la carta. Quindi possiamo pensare a una copertina di un libro, a un'etichetta oppure a un foglio su cui disegnare, su cui fare ogni tipo di creatività o delle sculture di carta, degli origami, qualsiasi cosa.